Dovrebbe essere estate per tutti, un po' di refrigerio, soprattutto per chi soffre, pensiamo ai diversamente abili. Così non è a Taranto. Siamo nella prima decade di maggio e insieme al qui presente collega consigliere comunale Massimo Battista di Una città per cambiare Taranto abbiamo presentato una mozione che si discuterà il prossimo 12 maggio venerdì nel Question Time perché questa spiaggia, così come tante altre, ma siamo qui a San Vito, Viale del Tramonto, una spiaggia dove grazie a Dio ancora non si paga, non diciamolo troppe volte se no poi potremmo anche arrivare a togliere il diritto alla spiaggia libera, dicevo mancano, vorremmo che questa spiaggia fosse dotata di tutte le strutture idonee per i diversamente abili, in primis le passerelle. Caro Massimo qui non c'è ombra di passerella, in altre città italiane è un fatto normale, ma con ovvietà, una cosa scontata che ci sia l'accesso al mare per i disabili, che vi sia un servizio di assistenza per i disabili, qui passerelle non pervenute. Siamo a maggio, quindi lo diciamo ora perché c'è ancora il tempo per farlo. A maggio noi abbiamo presentato la mozione, si voterà il 12, io mi appello a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza. Noi abbiamo la necessità che questa mozione, perché noi parliamo di un indirizzo politico, e vorremmo che questa amministrazione, come sempre noi diciamo, che dagli annunci, dalle parole, passa i fatti. Noi vorremmo che questa mozione venga approvata perché dare quel sacrosanto diritto a quelle persone inabili che devono accedere tranquillamente sulla spiaggia. Questa mozione noi chiediamo, le passerelle per tutte le spiagge libere di competenza del demanio marittimo del Comune di Taranto, ricordiamo che ci sono personaggi che fanno gli ambientalisti, fanno il tutto, che si occupano del demanio marittimo, però non hanno mai posto questi quesiti. Oltre alle passerelle chiediamo anche la disponibilità delle carrozzine per poter far accedere il diversamente abile dalla macchina sino alla battigia e sino in mare, fino a quando finisce il bagno e deve anche riuscire. E chiediamo anche, oltre a queste due cose, gente specializzata che possa assistere il diversamente. C'è da dire una cosa, la nostra è una battaglia bipartisan, qui non c'entra nulla essere di maggioranza o di opposizione. Si tratta di applicare la legge, è una norma di civiltà statuita, non è un obbligo morale, è un obbligo giuridico e quindi noi vogliamo vedere se la maggioranza nel prossimo Consiglio di venerdì approverà, appoggerà questa nostra mozione. È una mozione particolarmente dettagliata, ossequiosa della legge rispetto alla legge, ovviamente non solo passerelle ma anche bagni chimici e altro. Andiamo nello specifico. Oltre alle passerelle abbiamo chiesto gente abilitata per accompagnare i diversamente abili, abbiamo chiesto anche i bagni chimici per i disabili e la cartellonistica dove ogni disabile da quel cartellone può accedere sulla spiaggia libera. Ricordiamo che non parliamo solo della spiaggia di Pia del Tramo, ma tutte le spiagge di competenza del Comune d'Italia. L'appello che noi rivolgiamo per far sì che l'intero Consiglio Comunale, la maggioranza oltre l'opposizione, voti questa mozione. È una battaglia di civiltà e soprattutto una battaglia che vuole vedere vincitore, non Luigi Abbate o Massimo Battista, vuole vedere vincitori i diritti dei disabili, quei diritti che sono riconosciuti dalla legge e stranamente a Taranto così non è.